18 anni fa sono nate due ragazze insolite, le gemelle Aileen e Mia Johnson. Aileen ha abilità esplosive e ha una natura molto focosa. Oh, è già mattina! Stai zitta, brutta macchina infernale! Oh, ok, ora sono sveglia. È il momento di iniziare una nuova giornata. E che c'è di meglio di un po' di sano rock'n'roll? Meraviglioso! E ora ho bisogno di un po' di esercizio. Ma sua sorella mia era benedetta dal potere del freddo e aveva invece un carattere molto gelido. No, è già mattina! Bene, è ora di alzarsi. Oh, strano! Perché la stanza è diventata così silenziosa? Oh, Aileen! Che ti è successo? Svegliati, sorella, non capisco! Oh, ma certo! Ho congelato la sveglia e il tempo si è fermato! Dai, riscaldati! Oh, così andrà bene! Aileen! Eh, Mia, che è successo? Mi sento strana. Perché? Niente, non lo so che è successo. Ora andiamo a prepararci per il college. Ah, un giorno staremo insieme e saremo una coppia perfetta. Lui è davvero gelido, non come quell'altro. Il mio pocoso Ray è meglio. Il mio gelido Ray è meglio. No, non è vero. Il mio Ray è gelido. No, è pocoso. Eh, a proposito, devo andare un attimo in bagno prima. No, le prima sono io! Ah, grazie per avermi tenuto la porta aperta. Non è giusto! Ah, è così furba! Bene, signor Crackshall, aspetteremo. Allora, sono passati secoli. Il bagno è tutto tuo. Finalmente! Oh, è caldo! Finirai per fonderla, questa maniglia. La prossima volta congelerò la porta in anticipo. Bene, amico mio, è ora di fare un bagnetto rilassante. Buona nuotata! Com'è l'acqua? Oh no, è troppo calda! Mia, ho dimenticato di raffreddare il bagno. Sorella! Oh no! Mia! Devo sbrigarmi! Questo dovrebbe funzionare. Ok. Mia, stai bene? Penso di sì! Ero così spaventata, pensavo che ti fossi sciolta per sempre. Non lasciare mai più l'acqua calda nella vasca da bagno. Sto morendo di fame, facciamo una grande colazione. Farò il mio panino preferito. Oh, come fai a mangiarlo? Lo mangio con molto piacere e gustoso. Che schifo, non credo proprio! Io inizio la mia mattinata con un bel caffè freddo. Oh, è davvero freddo! Mia può godersi anche i suoi ghiaccioli. Se vuole, io ho dei bei peperoncini qui. Uno non mi basterà. Per fare il panino più delizioso del mondo, bisogna usare dei peperoncini davvero freschi come questi. Anche se manca ancora qualcosina. Torno subito a non toccare il mio panino. Non avevo intenzione di farlo. Buongiorno, figlia. Vedo che le mie ragazze si sono prese cura del loro padre e hanno preparato la colazione. Bel lavoro! No, no, papà, no! Beh, è come se avessi ingoiato della lava! Oh mio Dio! Ho portato altro ketchup! Papà! Mia, corri! Fermatevi! Puliamo la nostra camera! Sì, questo dovrebbe calmare papà! Sbrigati, prendi i piumini! Spero che funzioni! Papà, è successo qualcosa? Tu che dici? E a proposito, perché non siete ancora al college? Non possiamo andarci! Fuori c'è una tempesta di neve! Vedi, la strada è coperta di neve! Non si può camminare, neppure guidare! Oh, è vero? Tempesta di neve, eh? Hmm, mi suona sospetto! Vi vedo, ragazze! Vedo Mia nello specchio, sta facendo una magia! Non è vero? Il piano era buono, però! Non sono stata io! Come abbiamo potuto dimenticare lo specchio? Lasciate perdere i trucchetti! Papà James conosce troppo bene le sue straordinarie figlie! Il college vi aspetta! Dovete andare a lezione! Va bene! E non dimenticate i paraorecchie! O prenderete freddo, ragazze! Mi dispiace, Eileen! Pensavo che papà non avrebbe capito che eravamo noi! Ma non preoccuparti, ho preso un ombrello! Dovrebbe aiutare! Oh, no! Non ci ha aiutato! Perché non hai fermato la tormenta? Fermare è più difficile che creare! Perché allora non hai reso tu il tempo più caldo? Non volevo rovinare la tua magia! Oh! Oh, ecco Ray! Il più bel ragazzo del college! Ehi, ma che pensa di fare? Nonostante le loro differenze, Mia e Eileen hanno molto più in comune del loro aspetto! Sono entrambe innamorate dello stesso ragazzo! Ehi, il mio dito! Va bene, non mi arrenderò! La mia bellezza glaciale conquisterà il suo cuore! Ehi, Ray! Mia, sei perfetta! Cosa? Posso farlo anch'io e anche meglio! Sembra che sarà una vera battaglia tra ghiaccio e fuoco! Chi conquisterà l'attenzione del bel Ray? La fredda mia o la focosa Eileen? Io e Ray stavamo parlando! Esatto! Stavate parlando! Perché ora lui parlerà con me! Non abbiamo ancora finito! Invece sì, ragazze, io me ne vado! Ma hai visto? È scappato! È solo colpa tua! Sembra che entrambe le sorelle abbiano perso per ora! Il nuovo insegnante di filosofia è davvero divertente, Ma che succede? L'ho appena comprata e ho già finito l'inchiostro! Lo scrive! Ragazze, qualcuno ha una penna di riserva? È vero, lo adoro! Una penna? Per te? Qualsiasi cosa? Oh no, è vuota! Mi dispiacere, Ray! Non abbiamo penne! Aspettami, ho un'idea! Cosa? Trasformeremo la penna in braccia congelata! Oh, fatto! Ecco, Ray! Puoi scrivere con questa! Ops, forse abbiamo esagerato un po'! Un po', dite? Beh, in effetti... Ma grazie, ragazze! Almeno posso finire il mio lavoro! Questo è tutto ciò che rimane del mio lavoro di ricerca! Ma come è possibile? A quanto pare, i caldi sentimenti di Aileen per Ray sono difficili da controllare! Anche se Mia è un po' introversa, da quando è innamorata, la sua natura di artista è venuta a galla! Come faceva? Chi è? Mia, ciao! Posso entrare o ti disturbo? Ray! Ehi, ma certo! Entra! Un attimo! Ho portato una cosa! Un orso è così carino da parte tua! È per me? Cosa? No, l'ho portato per tua sorella! No! Questo non è possibile! Aileen, questo è per te! Wow, grazie! Un attimo, ridammelo! Questo è il mio orso! Perché Ray l'ha dato a me? Stava per darlo a me! No, a me! È mio! No, è mio! 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 È mio! 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 È mio! Ho detto mio! È mio! È mio! Mio! No, no! È il mio orso! È il mio Ray! Oh, era solo un sogno! In realtà è un terribile incubo! Stai bene? Ne vuoi un po'? No? Ok, come vuoi! Ho appena avuto un incubo! Sono contenta che sia stato solo un sogno! Che bella storia! Ma mi dispiace per l'iceberg! Un'intera nave ci si è schiantata contro! Sì, non mi piace il dramma, ma questo film è carino! Ora apri gli occhi! Ray sta volando! Il mio momento preferito! Che emozione! Non riesco a guardarlo senza piangere! Oh no! La cioccolata è calda! Ne vuoi un po'? No! Anch'io voglio innamorarmi così! Anch'io, sorella! È vuoto! Ci penso io! A qualsiasi cinefilo, un'abilità come quella di Elin tornerebbe utile! Chi direbbe di no a dei popcorn freschi mentre guarda il suo film preferito? E gnam, gnam! Sono buonissimi! Grazie, sorella! Penso che basti che dici! Sì, può bastare! Tutte queste emozioni mi hanno fatto venire fame! Mi prepari il pollo? Certo! Ci penso io! Buon appetito! Non posso mangiarlo da sola! Beh, ti aiuto io! Ops! Perché il portatile si è spento? Voglio finire di guardare il film! Oh! Ha fatto troppo caldo qui dentro e si è surriscaldato! Spero non si sia accatto del tutto! Non volevo, lo giuro! Lo adoro! Molto interessante! Mi chiedi aiuto! Ma lo fai senza rispetto! Questo film mi fa venire la pelle d'oca! Mi chiedi amicizia! Non mi chiami nemmeno padrino! Oh! Non vorrei mai essere nei panni del protagonista! Nemmeno io! Sì! Oh! La tua ala! Oh! Ero un po' nervosa! Va bene! Il film è davvero emozionante e la mia è congelata! Beh, non possiamo più mangiarle! Chi è? Ok! Oh! Non devo citoponare! È chiuso! Meno male che ho il mio kit di attrezzi per ladri davvero super fighi! Avrà bisogno di un attrezzo speciale! Sceglierò il più sottile! Questo andrà bene! Dobbiamo fare qualcosa! Chiama la polizia! Si la chiamo! Io cercherò di fermarlo! Pronto! Qualcuno vuole derubarci! È stata una decisione sbagliata quella di derubare quest'unico appartamento! Non è facile portare via tutti gli oggetti di valore! Un po' di più! Fatto! Il criminale è stato catturato! Che sta succedendo? Polizia! Che succede? Una prova! Restituiscila! Vediamo cos'è qui! Ah! Carino! Prendo quello con il cactus! Volevo dire... Subito alla stazione, giovanotto! Ma non posso muovermi! Sono congelato! Evviva! Siamo salve! Dammi i cinque, sorellina! Mi hai bruciata! E la mia mano è congelata! Dovremmo iniziare a portare i guanti! Giusto? Hai ragione! Oh! Ciao, mamma! Io e mia stavamo solo guardando un film! Quante volte vi ho detto di pulire la stanza? C'è pollo su tutto il pavimento! E anche polvere! Guardatecene un sacco! È così difficile fare quello che dico! Non aiutate per niente in casa! Sembra che le ragazze siano un po' colpevoli! Mia! Tu sai cosa fare? Sì, cercherò di calmarla! Mamma, stavo solo guardando un film! Ce l'ha suggerito un nostro iscritto! È vero! Per favore perdonaci! Ci sentiamo così in colpa! Faremo di tutto per pulire, ok? Certo! Ben fatto, sorellina! Va bene, ma... Promettetelo! Lo promettiamo! A proposito, non ci hai mai parlato della nostra nascita? Sì, sarebbe molto interessante! È vero! Va bene, allora! Siedetevi e vi racconterò tutto! Ah! È stato 18 anni fa! Oh! Oh! Ah! Su, su! Respiri! Ancora un altro po'! Oh! Cos'è questo? La bambina sta bene! Oh! Ecco il papà! Lo tenga! Ora tocca a lei! Sta andando benissimo! Oh! Un attimo! Ce n'è un altro! Faccia piano! Oh! Che bambini insoliti che avete! E ecco un'altra bambina con gratulazioni! Grazie, dottore! Va tutto bene! Stanno tutte bene! Oh! Mi giro la testa! Questa è la storia! Ma ora ricordatevi che dovete pulire! Certo, mamma! È ora di fare una doccia prima di andare a letto! Oh! Sei una tartaruga lenta! Apri! Ci risiamo! Che ingiustizia! Sa come darle una lezione? Presto! Voglio l'acqua calda! La 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 la! Ora la tua doccia calda diventerà una doccia ghiacciata! La 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 la! Oh no! Perché è così fredda? Sto per congelare! Ehi, donna di ghiaccio! Prendi quello che ti meriti! Dai, esci dalla mia stanza! Resta qui! Ti copro così inizierai a scioglierti poco a poco! E ora vado a fare la doccia! Ci rischiamo! Tieni! Grazie, mamma! L'acqua è diventata improvvisamente fredda! Cos'è questa storia? Credo di sapere qual è il problema! Beh, sorella, è ora che ti riscaldi un pochino! Che bella doccia fresca! Perfetta! Oh! C'è qualcosa che non va! Perché l'acqua è diventata così calda? Non capisco! Ok, ho una via d'uscita! Ora passo di nuovo a fare il bagno! Oh, eccoti qui! Com'è andata? Ok, questa volta hai vinto tu! Ma ti sfido! Ah, certo! Il punteggio ha già 1-0 in mio favore! Quindi, la battaglia del ghiaccio e della fiamma è iniziata! Quale delle due gemelle vincerà? Giochiamo a dama! Mi piacerebbe molto! Ti conviene impegnarti! Puoi scommetterci! Avrà dei pezzi speciali! Il ghiaccio mi aiuterà a vincere! Ebbene, tu? Hai pensato a qualcosa? Certo! Ecco, guarda! Il potere del fuoco, come sempre, è dalla mia parte! Oh, meno chiacchiere! Tocca a me! Ah, e allora? Solo un secondo! Guarda qui! Meno uno! Guarda! Addio, cubetto di ghiaccio! Questo passerà di sicuro alla storia! La vittoria nelle mie tasche! Senti, nuomi! Adesso che faccio? Fammi pensare al modo migliore per fare una mossa! Vediamo! Ok, le do qualche secondo! Un attimo! Ehi, questo non funzionerà! Stai solo prendendo tempo per far sciogliere i miei pezzi! Oh no! Stai parando! Ecco, guarda! Guarda come sono piccoli! Non è giusto! Ho giocato secondo le regole! Non è mica colpa mia se i tuoi pezzi sono diventati delle pozzanghere! Sei meschina! Facciamo un altro giro! Nuova sfida! Videogiochi! Attenta, sorellina! Con un controller così fico non posso perdere! Hai paura? Chi ti credi di essere? Beh, tieniti forte! Ora ne avrò uno personalizzato anch'io! Cominciamo! Oh, ho tanta paura! Farò del mio meglio per te, amore! Non preoccuparti, Ray, vincerò io! Questa lotta tra sorelle è davvero molto pericolosa, soprattutto quando si trasforma in una vera battaglia di elementi! Non manca molto alla fine! Continua! Oh, sta diventando così caldo! No, l'acqua no! No, no, non farlo! Evviva! Ho vinto! Assolutamente no! Devi accettare le sconfitte! Siamo uno a uno! Oh, è arrivata la mamma! Non vedo nessun asciugamano o detersivo nelle vostre mani! Oh, certo! Stavamo giusto per pulire! Sbrigatevi! Ragazze, Ray ha lasciato il nostro college! Cosa? È vero! Ma è arrivato un altro ragazzo! Cosa? Davvero? Ma che fine ha fatto, Ray? Ok, ora devo andare! Mi chiedo che aspetto abbia! Oh! Ecco il nuovo ragazzo! Per favore, scusaci! Ci dispiace per questo! Non è un grande problema! Wow! Scommetto che nessuno potrà resistere al fascino di questo ragazzo attraente! Ed è così di classe! Addio, Ray! Ecco la nostra nuova catta! Non preoccupatevi, presto sarò asciutto! Che figura dobbiamo rimediare alla situazione subito! Credo di avere altri pantaloni! E io ho una maglietta! Solo un attimo! Ecco, prendi! Oh, grazie mille! Va molto meglio! Ehi, perché la maglietta è tutta bruciata e i pantaloni sono così freddi? C'è un sacco di ghiaccio nelle mie tasche! Comunque, grazie per tutto questo! Ma ora devo andare! Oh, freddo! Che freddo! Beh, abbiamo fatto del nostro meglio! Sì, avevamo buone intenzioni! Quanto è bello! Lo so! Robert, mi fai copiare! Ma con chi è che sta sempre a messaggiarsi? Ridacchia tutto il tempo! Forse è un'altra ragazza! E perché sembra così felice? Wow, non sapevo che gli struzzi non potessero volare! Scusate il ritardo! Che meme divertente! Entra Mia, il tuo posto ti aspetta! E anche Mia! Un attimo! Si messaggiano tra loro e lui si sta facendo dei selfie! Oh, devo subito fare qualcosa, altrimenti mia sorella mi ruberà il ragazzo! La magia del fuoco mi aiuterà! Niente più messaggi! Oh, mi sono bruciato le dita! Che hai fatto? Spero che il mio smartphone possa essere salvato! Oh, di sicuro è andato! Sembra gelatina! Oh, slime che incubo! Come faccio a chiamare mia madre? Te lo sei meritato! Ehi, Lynn, perché sei arrabbiata e hai fatto tutto questo? È stato per colpa tua! Cosa per colpa mia? Ma perché? Perché hai flertato con lui e gli hai mandato dei messaggi! Ma non l'ho fatto! Stavo solo parlando con Ray! Mi ha mandato un messaggio sul nuovo college! Oh no! La mia gelosia mi ha fatto vedere cose che non esistono! Non partere di vista la palla! Di nuovo, le ragazze stanno facendo una sfida! Prendi questa! Non puoi battermi! Lo vedremo! Palla storta! Lo sapevo! Oh no! L'ho mancata! Ha! Non sai maneggiare il joystick così come non sai farlo con le racchette? Che hai detto? Beh, guarda! Oh no! Conosci il mio tiro? Il famoso impeto caldo delle fiamme feroci di Aileen! Oh! Non è successo niente di niente! Cosa? Beh, chi è che non regge il baccano ora? Wow! Pensavo che Aileen non potesse più sorprendermi! Non mi piace il tennis! Due a una sorellina! Oggi c'è un vero e proprio fermento a Troom College! Mia! La celebrità locale ha deciso di partecipare alle lezioni! Mi sono mancata, gente comune! È nata una nuova tendenza! Calma, signore! Che patatica parodia! Sono la prima a ricevere un autografo! Atterraggio difficile fa male! Scriverai alla bella Nancy! Calmati! Firmerò per tutti! Lo metterò in una cornice! Togliate i capelli! Ho già ricevuto uno schiaffo in mattinata! Ma non è! Credo di avere una commozione cerebrale! Sistemiamo la messa a fuoco! Ragazzi, non seguirò più i vostri trucchetti! Vi mando il link per un terapista gratuito! Cancella l'iscrizione! È davvero così brutta! Questo è il mio vestito migliore! La rete di Aether ha cominciato a funzionare! Ma qui c'è scritto Nancy! Fai silenzio per un minuto a Nancy! Il presidente sta scrivendo un messaggio, sai? Vi presento la mia gemella Eileen! Ha senso! Si somigliano! Non ci credo! Proprio come nei film, alla natura mancava il senso dello stile per una delle due! Con un naso del genere, non sarai sicuro della parentela! Completamente imbarazzata! La chiamo Mowgli per la paura che ha della società! Corri più veloce e nasconditi nella tua tana! Oh, troll malvagi e crudeli! Sono sempre all'ombra della mia popolare sorella! Vorrei distruggere questa immagine di modesta tappezzeria! Per favore, ditemi che cosa posso fare! È un compito difficile, lo so, ma... Ecco, vorrei partecipare al concorso per la regginetta della scuola! È proprio quello che vorrei! Dovrò uscire dalla mia zona di comfort, ma sono sicura che ne varrà la pena! Mi ci vedete con una corona? Finalmente sarò io la protagonista della scuola e non quella narcisista di mia sorella! Fate largo alla monarca o non di nuovo? Che diavolo sta facendo? Mia sorella, cosa ha in mano? Non ci credo! Perché dire un concorso se tutti sanno già chi sarà la vincitrice? Che scherzo esilarante! Chi sarebbe? Ma come? Chi? Io? Certo che diventerai la regginetta! Oh, esatto, chi altro? Te lo meriti! Beh, congratulazioni per il tuo futuro trionfo, bellezza! Lo dimostrerai a tutti! Il pubblico adorerà il suo stile! I concorrenti non hanno alcuna possibilità! L'argomento è chiuso, credo! Sono caduta ancora più in basso e la gara... Oh, penso che non abbia scelta! Dopo questa umiliazione, devo vincere a tutti i costi! Farò qualsiasi cosa! E se il mio sogno si avverasse davvero, spero di non portarmi sfortuna! Un errore dello stilista! Guardate chi si è presentata! Che giacca terribile! Tieni questa! Ma che volete da me? Avete scelto un momento sbagliato e non sono una serva! Beh, sei vestita da serva! Inizia a pulire i pavimenti! La mia pazienza è finita! Riposati, ribelle! Il primo turno della competizione non sarà un successo! Si è persino attaccato ai capelli! Oh, bello scherzo! Volevo solo una possibilità! Potevate almeno aiutarmi, no? Ma perché farmi questo? Come farò ad esibirmi ora? Sembro una barzellezza! Beh, non è una grande perdita! Se saltiamo il tuo numero, sopravviveremo, te lo assicuro! Ragazze pronte tra un minuto! Che diavolo è questo caos? Oh! Lascia che Aileen pulisca! Che dramma! Dove sono i popcorn? Ti stai innamorando delle sue bugie? Basta con queste parole vuote! Neanche un grammo di compassione! Vai avanti, impressione il pubblico! Ma signor Khan, è la mia canzone? Cenerentola cantava mentre puliva! Potrai farlo anche tu! Posso esibirmi velocemente e poi iniziare a pulire, ma non ho nulla da indossare! Mi dispiace, gli abiti sono finiti! Non ti lascerò andare via senza pulire! Sì, capisco, ho un'idea! Oh, vediamo un po'! È bello che in me coesistano tante abilità! Peccato che la comunicazione non sia una di queste! Ma quando diventerò reginetta, tutto si risolverà! Un attimo, qualcuno si sta esibendo al posto mio! In bocca al lupo mia, sei la migliore! Crediamo tutti in te, spacca! Avete scelto la cantante giusta, il mio nuovo singolo! Nelle altezze blu del cielo! Non ci posso credere! Diamo una ripulita allora! Tutto è come a casa, mi asci diverte e io pulisco! Non avrei dovuto partecipare a questa competizione! Ci sarà una bufera tra noi! Perché io e lei siamo come due fiamme, come due penici! Sì, non guardare sotto le mie ciglia! Piango senza sosta! Il Sandman non funziona! Smettila con questo ululato! Continua a lavorare! Restituisci i soldi del biglietto! Questo è un fiasco e così sia! E su Instagram ho così tante foto con lei! Dimentica la vita quando sono più vicina! Sono la tua musa! Sentite questa voce angelica! Esattamente! Sei bellissimo, sole! Il mio fiore e tutta la mia anima è per te! E arriva in basso tra la polla! Tu sì! Continua, Aileen! La ragazza è molto dotata! Ops! Sembra che un mocio mi abbia ispirato! Beh, come si dice, grazie per questo benvenuto! Ho suggerito io gli oggetti di scena! Ben fatto! Sono commosso fino al midollo! La sala è piena! La delegheremo a Trumpa, Thor! Grazie, siete i migliori! Ci vediamo presto! Hai cantato benissimo ieri! Ho fatto del mio meglio per il pubblico! Girerai un video con la tua canzone? Dovremmo aspettare ancora un po', ma non ci sono problemi, amici! Calmati, non credo che possa batterti! Non sono pronta per la competizione! Davo vendicare Aileen per la mia disgrazia! Dovresti essere contenta che lei sia così dotata! Ehi, siediti per non cadere! Jacqueline ha pubblicato un nuovo album! Non posso perdermelo! E la simpatia nei miei confronti? Io sono ancora qui! Oh, accidenti! Cambiano idea così in fretta! Ma non voglio aspettare! Non voglio stare a guardare! Sembra che il nostro college stia per avere una sorpresa! Ciao, sono Jacqueline! Wow, è ancora più bella dal vivo! Sono molto impressionabili! Posso farcela? Ok, proviamo! Oh, che ospite! L'educazione prima di tutto! Qualcuno mi dia un pizzicotto! Oh, ci sono, ci sono! Silenzio, studenti! Una passione così forte è dannosa per la salute! Prima l'insegnante si farà fare un autografo! Puoi firmare su questi test! Tanto li guardiamo raramente! Sono un'amica di mia! Fatemi passare! La mia vita non sarà sprecata! Scrivi qualche parola, per favore! Non sopporto questa brutalità! È davvero disumano! Forse la prossima volta! Sembra che non ci sarà un inseguimento! Ascolta, le vere star cambiano sempre aspetto per non essere riconosciute! Perfetto! Passerò inosservata, credo! Oh, wow! Mia, che splendida trasformazione! Andiamo! Spero che quel nerd non sia troppo triste per aver perso gli occhiali! Perché Jacqueline ci mette così tanto! Cos'è questo? È uno scherzo? Ehi, Lynn! Oggi ho un ospite speciale accanto a me! Non dimenticate di commentare! Non ti permetterò di rovinarmi la vita! Allora, chiedo un aumento! Dove te ne vai, cara quattro occhi? Fammi entrare! Solo i VIP passano! Esatto, sono una VIP! Non ci credo! Ma la mia amica è la cantante Jacqueline! Ecco qui la prova! Ti ricorda qualcuno? Non funziona! Lo so quanto voi adolescenti amate Photoshop! Avanti! Spostati! Ci vediamo presto! È molto figo qui! Oh, che ciocchi eleganti! Si addicono al colore dei tuoi occhi! Un servizio eccellente! Grazie mille! Finalmente proverò la cucina molecolare! Ma come si mangia? Sei proprio intelligente! Mia! Questo ristorante offre un tovagliolo per infrescarci prima della cena! Oh, ecco perché non si mastica! Esattamente! Però sei divertente! Benvenuta, signorina Lee! Che tu ci creda o no, una ragazza pazza è venuta qui di recente fingendo di essere te, esilarante! Te lo immagini! E poi mi fa... Brad Pitt ti sta chiamando per un appuntamento! Oh, wow! Sembra che sia nella categoria di età sbagliata! Oh no, Mia ci ha trovate! Beh, godiamoci questi ultimi secondi! Ciao! Ti stai godando un incontro amichevole senza di me! Come hai potuto farlo, Jacqueline? Questa situazione mi fa impazzire! Aspetta, vedo doppio! Che significa? Sono stanca di essere compusa con quel topo grigio! Non c'è da stupirsi! Vi somigliate tanto! Ero sicura di parlare con Mia! Nonostante quel nasone! Io mi chiamo Eilin! Mia e io siamo gemelle! Lei aveva solo uno sfortunato aspetto da nerd! Oh, capisco! Mia, hai una sorella così simpatica! Facciamo una foto insieme! Fai l'occhiolino ai miei iscritti! È stato bello cenare con te, Eilin! Non offendere tua sorella! Certo, amica! Hai calpestato la mia autorità, piccola truppatrice! Wow, la nostra foto è appena esplosa sui social! Beh, direttore, hai fatto un ottimo lavoro! Quindi i brillantini non vanno più di moda? Wow, sono sbalordito! Basta guardarla! Questo vestito mi ricorda una notte stellata! Che eleganza! Ehi, guarda questo tessuto magico! Brilla in modo ipnotico! Ma chi è quella bella sconosciuta? Non ve lo aspettavate? Come va la serata, signor Khan? Probabilmente mi unirò a voi! Sono qui! Stai benissimo! Eilin, sei semplicemente adorabile, non è vero? E ha una voce meravigliosa! Anche la cena di ieri con la star marita rispetto! Avvicinati, sorella, siamo una famiglia! Cos'è quella croce? È una sorpresa, non farci caso, è tutto studiato! Sembra che Mia incolpi ancora la sorella per la sua umiliazione! Pensate che Eilin riuscirà a sfuggire alla vendetta della gemella! O mio otterrà ciò che vuole! Hai scelto degli accessori carini? Dove li hai presi? Devo riempire la mia scotta di spille? Prendi questa! Oh oh! Ora sia la serata che l'acconciatura sono rovinate! Che peccato! Con un vestito del genere non vincerai di certo gallinella! Volatene via! Si sarà offesa? No, noi la trattiamo sempre così! Oh! Il destino è stato crudele a darmi questa sorella! Devo risolvere il problema! Ma esatto! Questo sarà perfetto! Cominciamo! Beh, non è perfetto! Ma ora è più carino! Non ci credo! È fantastica! Ti sei tolta di nuovo dai guai, Volpe! Oh, stai bene! Complimenti! Eilin ha le mani d'oro! Questa sì che è creatività! So disegnare anche ritratti! È arrivato il momento della verità! Chi diventerà la reginetta della scuola? Questo sì che è un duello all'ultimo sangue! Le parole non possono esprimere quanto io sia felice di presentarvi la nostra reginetta! È una mia impressione o qualcuno vuole falsificare i risultati? Che devo fare, amici? Ditemi quale delle buste è quella giusta! La vittoria sarà mia!